Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Mobilità in città, domani pomeriggio a San Basilio, corteo del Movimento per il diritto all'abitare, con partenza dalla Tiburtina, Altezza Rebibbia e arrivo a Via Fiuminata. Possibili temporanee chiusure. Domenica invece, tra le 7 e le 13, torna l'appuntamento con Corri Bravetta. La partenza e arrivo saranno da Via Deica Passo, percorso e temporanee chiusure su Via di Bravetta, Via Aurelia Antica, Via di Torre Rossa, Via del Casale di San Pio V, Via Silvestri e Via Serafini. Deviate le linee di bus H 808, 889, 892 e 982.